Ciao a tutti e benvenuti in questo teatro che è la sede del nostro osservatorio nazionale minori e intelligenza artificiale. Lo abbiamo pensato proprio per voi. E allora, siete pronti a scoprire un mondo pieno di sorprese? Oggi parliamo di intelligenza artificiale. Cos'è, come ci può aiutare a scuola e come possiamo divertirci con essa? Prima di tutto, che cosa significa intelligenza artificiale? Beh, immaginate un computer che può imparare e pensare un po' come noi. Non ha un cervello come il nostro, ma riesce a risolvere problemi, rispondere a domande e persino aiutarci con i compiti. Alcune AI possono fare addirittura la magia di animare i nostri disegni. Grazie per la visione! L'intelligenza artificiale non è utile solo per gli studenti, ma anche per i docenti. Può aiutarli a impostare le lezioni, suggerire attività coinvolgenti e persino fornire materiali didattici personalizzati. Con le AI preparare una lezione diventa più semplice e stimolante. E che ne dite di creare una mappa mentale per organizzare le idee? Per esempio, se state studiando gli animali e volete capire meglio le loro caratteristiche, potete usare un'app con le AI per creare tutto questo, semplicemente con un clic. Le AI può suggerirvi informazioni, immagini e aiutare a collegare le idee. Così studiare diventa molto più chiaro e divertente. Un altro modo in cui l'intelligenza artificiale può aiutarvi è con le storie. Immaginate di voler scrivere una storia magica con draghi, castelli e cavalli volanti. Se vi serve un po' di ispirazione, le AI è qui. Può suggerire personaggi, scrivere i dialoghi o persino creare l'ambientazione perfetta per la vostra avventura. Ora vediamo un'attività divertente da fare insieme. Che ne dite di creare delle poesie con le AI? Può aiutare a trovare le rime migliori e scrivere una poesia su qualsiasi cosa vi piace, il vostro animale preferito, l'amicizia o anche la vostra classe. Il segreto di tutta questa interazione è il linguaggio naturale. Le AI è in grado di capire le nostre parole e rispondere proprio come se stessimo facendo una conversazione. Questo rende l'apprendimento più accessibile e coinvolgente. Quindi, ricapitolando, le AI può essere un grande aiuto in classe. Può aiutare a disegnare, a creare mappe e immagini, a fare da tutor e persino a inventare storie e poesie. E soprattutto può rendere lo studio più coinvolgente e divertente. Il cuore di tutto però resta il docente con la sua guida, la sua esperienza e la sua capacità di adattare le tecnologie alle esigenze degli studenti. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Ora è il vostro turno. Nei nostri laboratori didattici di intelligenza artificiale e realtà virtuale scoprirete come la tecnologia può rendere tutto più magico. Imparare è più divertente con le AI. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.